Il pallone ufficiale della finale UEFA Champions League di Roma. Guardate! Anche qua grazie! Adesso se volete ritocchiamo dei palloni anche per loro. Ok prego. Anche qui grazie. Ok ragazzi palleggiate un attimo. Primo Cassini. Palleggia dai dai. Palleggia il volo insieme. Il colore ricordano Roma. Anche qui grazie. I disegni sul pallone. Da Bruno. Uè Ale. Bruno da questa parte grazie. E prima di tutto un benvenuto. Citare un paio di personalità presenti. I would like to welcome a couple of personalities and the... Luca Martigiani e Massimo Piscedda. E un grazie per... Incontra perfettamente quelle che sono le intenzioni. Un esempio di grande efficienza. Di preparazione e di capacità di essere in grado appunto in modo... C'era proprio anche il biglietto di accetto alla partita. Che quest'anno per la prima volta avrà una... Ville, UEFA Champions League ball for this year's final. del mondo in Germania. C'era l'ulteriore estensione della nostra...